Cosa ho avuto che ti dica mi Flora, guarda che anche a volte andare a farsi curare, le cose brutte, ti ti va per farti curare? Si c'è, Maria Vergine guarda, e mi ha contato un fatto di anninetta Proia, Anbariave anninetta, sono coscritte, sono classe, ha sempre mal di schiena, è sbaruzzata, Non si è pensato ad andare a farsi i fanghi a Chianciano, a Chianciano è andato a farsi i fanghi, No, petta, abano, 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 ma vado a saperla, Non sta meglio, ti sa che, ti sa che, insomma, la schiena, lei perché pesa un quintale, 30? Ah, benedetta, si sape, non sei a impiantare, mostro, non gli era più buoni di tirarla fuori? E cosa, come hai fatto ora? Col trattore, mamma benedetta, con i fanghi un po' più bassi, E cosa ha avuto, e ha provato ad andare a curarsi, Maria Vergine, pure va un po' su quei pinguri, Ma guarda, ti ti metti conto di anninetta? Aspetta, è Bertilla, cosa hai fatto Bertilla? E' nata a farsi veda dal dottore, che l'ha dei femmini? Qual dottore? E' quel dei femmini? Aspetta, aspetta, come si chiama? Aspetta, è il ginecologo? No, no, è quel di aggina. Quello di aggina? Quello di tutte le femmini. Cosa è il nome di benedetto? E' il monologo? Ecco, là, ecco lì. E' il monologo? Ma sta bene, sta bene, no? E beh, insomma, mia tante. Ma gli hai cattato qualcosa ora? Fa forza un folipo? Un folpo? Un folpo? Un folpo? Un po' ipo? Ah, un po' ipo, sì. Sì, tesoro. Ma no, come mai hai cattato questa mestiera? E' che non è mai stata al mar? Ma gli credi tu? Non è mai stata al mar? Ma non è mai stata al mar? Come ho fatto, benedetto? Come ho fatto andare su al folpo? Beh, niente che sia stata al marcat del pesco. E poi, pivassucco, ho saputo, perché so che non ha sembrato mai la casa. No, no, non è mai stato al polpo. Un polpo, eh, al marcat del pesco? E' facile, non ho saputo che ti dimenti. E' facile, non ho saputo che ti dimenti.